Era abbastanza diffuso nel senso che anche quantitativamente e qualitativamente erano molti gli impiegati, c'erano dei soggetti che erano degli strisciatori, se così si può dire, per conto degli altri, facevano strisciate plurime dei beige all'ingresso, mentre altri che erano l'uno e l'altro, cioè strisciavano per altri i beige e o non si regavano poi al lavoro oppure arrivavano in ritardo con delle assenze notevoli, soprattutto per quanto riguarda le tre persone che sono state poste agli residui lucidari. L'indagine prosegue anche in questa direzione, cioè come mai i funzionari, i dirigenti, i responsabili del Comune non si sono accorti di questo dato che è macroscopico, cioè di tante impiegate che risultano presenti e invece non sono presenti all'ufficio. Dunque è una domanda che ci facciamo in molte e speriamo di dare una risposta.